Una è a posto! Ehi, guarda! Siamo tornati alla spiaggia vicino alla città. Vediamo dove ci porta dopo questo cristallo. Ehi! Ci sono Nacons e Tails! Commento che non vi aspettavate di trovarmi qui, eh? Proprio così! Perché io faccio quello che voglio, come voglio e quando voglio. Non mi importa quello che vi dice lei. Siete molto lontani dal lago vulcanico? Dov'è, Oki? Non ha importanza! È la mia vita! Posso fare quello che voglio! Ah! Sono rovinato! Molto rovinato! Beh, la verità è che... Mi manca molto quella chiacchierona! Devo renderla di nuovo felice! Lei adora le conchiglie rare! Se ne trovo abbastanza, posso farle un regalo! Dovresti trovarle delle perle! Alle donne piacciono molto! Ah sì? No! A lei piacciono le conchiglie! Conchiglie rare! Mia madre era una perla! Tu sembri una ragosta gigante! Non mi piaci! Bene, calmati! Che drammatico! Che mi dici se le troviamo noi delle conchiglie per te? Dove le troviamo? Le potete trovare nell'acqua bassa nella baia del corallo! Continui a non piacermi! Capito! Ce ne occuperemo noi! Ah! Che danno il turbo, bello! Sì! Agitiamo le acque! Sì! Non sono mai andato così veloce in tutta la mia vita! Adinati! Che perdono, farlo! Che si sente! Inoltre al ucino! Che dietro del cuore! Also, un po' inolito! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, che giornata fortunata! Mi scalda davvero il cuore! Che non sono sicuro funzioni ancora, ma... Indovina cos'altro è freddo e umidiccio. I miei piedi. Le mie code sono zuppe. Essere inzuppati è la norma per noi. Comunque, nessuno mi aveva mai aiutato in passato. Non so neanche come comportarmi. Immagino che una ricompensa sia di obbligo. Prendete questo cimeglio di famiglia, che Oki mi ha dato il giorno del matrimonio. Prendetelo, è per voi! E Oki sarà d'accordo secondo te? Chi se ne importa? Non comanda lei! No! Io faccio quello che voglio, quando voglio! Chi se ne importa? Grazie a tutti. Grazie a tutti.